Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi della serie del momento, e cioè strappare lungo i bordi di Zero Calcare. Una serie che ha colpito tutti, sia per la sua qualità, sia soprattutto per quanto riguarda le delicate tematiche che tratta. Ma è stata una serie che è piaciuta tantissimo soprattutto perché ha davvero una valanga di citazioni alla cultura pop, alla cronaca, al mondo del cinema e delle serie tv. E in particolare, ovviamente, visto che ve ne parlerò in questo video, contiene anche tantissimi easter egg di Star Wars. Andiamo a scoprirli tutti dopo la sigla. Il mitico Zero Calcare, nelle sue opere precedenti, non ha mai nascosto di essere un grande fan di Star Wars. E infatti, in molte occasioni, ha riempito le sue vignette e le sue opere di grandi citazioni alla saga di George Lucas. Ovviamente la sua serie animata, strappare lungo i bordi, non poteva certo fare eccezione, e nel corso dei sei episodi, egli ha inserito tantissimi easter egg molto belli e particolari di Star Wars. Il primo di questi easter egg compare nel secondo episodio, dove vediamo un poster inequivocabile, che è quello di Rogue One, che però ha il titolo tra virgolette storpiato in romanesco, con su scritto letteralmente Rogue One. Il che è una caratteristica molto simpatica, che vedremo anche in molti altri poster contenuti all'interno della casa di Zero. Già a partire dall'episodio successivo, e cioè il terzo, le citazioni aumentano. Ne vediamo prima una quando Zero Calcare parla dei ragazzi a cui faceva ripetizioni, in particolar modo al ragazzo lucertola, e soprattutto in merito a quelle che erano state le sue derive politiche non troppo entusiasmanti, per le quali Zero immagina di presentare un dossier dei suoi genitori, nel quale compare proprio Darth Vader e la scritta secondo il quale il figlio, quindi il ragazzo lucertola, si era fatto ammaliare dal lato oscuro, che in questo caso è un riferimento proprio a quella deriva politica di cui vi parlavo poco fa. Andando avanti nel corso della puntata invece c'è un easter egg molto più visibile di quello di cui vi ho appena parlato, e cioè un'intera scena in cui si immagina, diciamo così, un duello tra Jedi e Sith, e soprattutto tra Zero Calcare, che in questo caso è un Jedi che sguagna la sua spada laser, e Secco, amico del protagonista e personaggio super divertente della serie, che in questo caso invece impersona un Sith e in particolar modo Darth Maul. Durante questa scena Zero Calcare cita anche il mind trick, e cioè il trucco mentale Jedi. La cosa più divertente di questa scena è stata poi immaginare Darth Maul che si rivolge a Obi-Wan chiedendogli se andiamo a piar gelato. Arriviamo poi a quello che è l'ultimo episodio con le citazioni di Star Wars, che è il quarto, che è anche la puntata che ne ha di più. Come ricorderete, intorno all'ottavo minuto Zero Calcare instaura una scena davvero comica, descrivendo quelli che sono quattro regni all'interno della sua disordinata dimora. Uno di questi in particolare viene chiamato a pronto superfluo. Si tratta del classico tavolo che quasi tutti sicuramente possediamo, e dove nel corso del tempo finiscono gli oggetti più disparati, dei quali poi non riusciamo più a trovare una collocazione. In particolare, tra tutti questi oggetti si vede benissimo un casco mandaloriano, che è molto simile al casco di Din Djarin, appunto il protagonista di Domandalorian. E si vede che probabilmente è un elmo forgiato in Beskar. Poco dopo, sempre durante le scene ambientate all'interno di casa sua, vediamo un altro poster, in questo caso il poster di Episodio 5, L'Impero colpisce ancora, che anche in questo caso è stato romanizzato in maniera molto irriverente. E allo stesso modo, una manciata di minuti dopo, in un'altra inquadratura, possiamo vedere all'interno del salotto di casa di Zero Calcare l'elmo di Darth Vader esposto in bella mostra. L'ultima grande citazione presente nella serie, sempre all'interno del quarto episodio, è quella che ci viene presentata nella divertente scena del treno, dove Zero Calcare mette in contrapposizione quello che è il caldo torrido di fuori rispetto ai climatizzatori a 20 gradi sotto zero di Trenitalia. E in questo caso il protagonista immagina di essere Luke Skywalker sul pianeta Hot, sempre in Episodio 5, e soprattutto immagina di infilarsi nel Town Town proprio come il nostro Jedi fece nell'Impero colpisce ancora. In questo caso però dobbiamo anche dire che è presente un piccolo errore, poiché, come tutti sappiamo, in quel momento Luke Skywalker era privo di sensi, e in quel caso non fu lui, ma fu Han Solo, impugnando la sua spada laser, ad aprire in due il Town Town e a infilarci se stesso e Luke per poter sopravvivere alla tempesta di neve di Hot. Sicuramente quello di Zero Calcare è stato un errore in buona fede, soprattutto in merito a quelle che erano le esigenze narrative, e quindi ovviamente glielo perdoniamo. E non potrebbe essere altrimenti, perché l'autore ha confezionato davvero una serie splendida, una serie che riesce a farti ridere e un secondo dopo ti entra dentro come un macigno, e che soprattutto affronta temi molto delicati e importanti, come quello che è il disagio odierno della nostra generazione, ma non solo, e anche tematiche molto più forti. E lo fa sempre con la qualità che lo contraddistingue e con una certa ironia che però non va mai a minimizzare quelle che sono le tematiche importanti che vengono trattate all'interno dell'opera. Questo video quindi non è solo un'occasione per presentare quelli che sono stati gli easter egg di Star Wars all'interno della serie, ma è anche e soprattutto un invito da parte mia, se non l'avete ancora fatto, ad andare a recuperarla su Netflix, perché merita davvero. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questi riferimenti e se ne avete trovato qualcun altro a tema Star Wars, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!